Ma allora sei proprio deficiente! E' vero che devo dire così? No! Sono le 8 meno un quarto eh! Ah Dio, ti piace! 3 Basate! Ma non puoi farla ricominciata qua? Non lo facciamo più! Per piacere, io ci sto provando! Cortina! Cortina! Ci si va a filare la pizza! Qua stasera, prima a mezzanotte! Cortina! Cortina! Dai, dai, dai! Dai, dai! Da un pezzo, l'ho detto, da un pezzo! Riprendete! Guarda che bastardo! Sei stato divertito! Vai! Fa parlarmi! Fa parlarmi! La battuta è la sua! E non ce la stai affanire! E non c'è! Grazie a tutti.